Oggi gioca la Juventus, oggi gioca la Juventus. Quanto è bello pronunciare queste parole, quanto mi è mancato poterlo dire. Oggi non solo gioca la Juventus, oggi iniziamo questo Tour de Force meraviglioso che dovrà essere soddisfacente al termine del mese d'aprile nel quale sicuramente la Juventus andrà a giocarsi diverse cartucce sia dentro il campo che fuori dal campo. Questa nuova avventura, questo nuovo percorso inizia proprio in casa nostra dove andremo ad affrontare la Sverona. Una squadra che è sull'orlo del baratro, legata alla retrocessione ma è anche la squadra, se vogliamo, tra quelle che stanno lottando per rimanere in Serie A con forse più speranza di poterci rimanere per via della classifica con una delle squadre che può sperare di andare a rincorrere quelle che sono davanti e quindi loro non devono più guardare in faccia a nessuno devono giocare ogni partita come se fosse la partita della vita e quindi rimaniamo concentrati su questa cosa. Io vi dico che oggi andiamo a vedere un po' quelle che sono le statistiche legate alle due squadre. Torna, torna all'Allianz Stadium questo demonio, questo demone Adolfo Gaic. Lo ricordate? Argentino, attaccante del 99, dell'Elas Verona che ha già giocato in Serie A in una stagione, 2020-2021, 15 presenze col Benevento due gol, due gol in Serie A di cui uno segnato all'Allianz Stadium contro la Juventus per l'1-0 del Benevento nei confronti della Juve all'Allianz Stadium. ricorderete tutti quell'1-0 che ci fece dubitare di tante cose nella stagione di Andrea Pirlo con quel passaggio da parte di Arthur Schellerato e con Gaic che segna il gol vittoria sembra passato un'eternità, non è passato così tanto oggi torna, oggi arriva. E stavo guardando un attimino anche i precedenti tra Juventus e Hellas l'ultima partita che abbiamo giocato in casa nostra contro la Sverona l'anno scorso ho un bel ricordo perché è stato il 2-0 firmato da Vlaovic e Zaccaria i due nuovi acquisti la prima partita che da Vlaovic e Zaccaria giocano con la Maglia di Juventus in gol entrambi, in gol tutti e due il successo firmato da loro all'andata invece il 10 di novembre 2022 abbiamo vinto 1-0 gol di Moise Ken in casa loro in casa loro l'anno scorso invece abbiamo perso con quella doppietta di Simeone ricorderete il gol di McKennie e poi l'anno prima gol di Baracca e Cristiano Ronaldo e anche un pareggio firmato Kuluseschi e Favilli che abbiamo giocato in casa nostra quindi come possiamo vedere dagli ultimi precedenti giocati in casa nostra e giocati fuori bene o male il Verona è riuscito a fare un bottino di punti e a fermare la Juventus erano sicuramente altri Hellas una storia differente proprio a livello di punti raccolti e di quello che mettevano sul campo l'Ellas dell'anno scorso sicuramente era una squadra tosta quello di quest'anno è invece un lontano parente diamo un'occhiata anche un po' a quelli che sono i risultati stagionali in trasferta dell'Ellas Verona perché sono state giocate 13 partite zero vittorie loro hanno fatto zero vittorie 5 pareggi, 8 sconfitte, 7 gol segnati in 13 partite e 19 gol subiti il che significa che in trasferta fanno molta fatica veramente molta fatica e dobbiamo cercare di dare continuità invece noi al fatto che in casa nostra abbiamo fatto 10 vittorie 3 pareggi e una sconfitta siamo sempre stati una squadra tosta da affrontare in casa cerchiamo di unire l'utile al dilettevole la Juventus ha segnato 33 gol in casa in 14 partite, una media gol di 2.4 tra le muramiche viene naturale pensare che la Juventus oggi possa segnare almeno un paio di gol e che l'Ellas invece faccia fatica a trovare la rete quindi un risultato simile a quello dell'anno scorso con Blavice e Zaccaria 2 a 0 se non addirittura qualcosina di più perché la Juve in questo momento dovrebbe arrivare abbastanza carica all'appuntamento andiamo un attimino a vedere quelli che sono invece i giocatori dell'Ellas da tenere particolarmente sott'occhio perché in questa stagione abbiamo dei giocatori come Lazovic che sono a quota a tre reti è il giocatore forse più pericoloso se vogliamo da questo punto di vista per l'Ellas e invece davanti stanno facendo molta fatica con Verdi, Henry insomma sono giocatori che dovrebbero segnare decisamente di più in questa stagione non stanno rispondendo alla grande a quelli che dovrebbero essere le aspettative di una squadra del genere infatti se andiamo a vedere comunque il Verona ha segnato una miseria e cioè soltanto 22 gol e ne ha subiti 41 quindi stiamo parlando di una squadra che ha meno 19 di differenza a reti una squadra che numeri alla mano e classifica alla mano, prestazione alla mano sta facendo molta fatica e che difficilmente riuscirà poi a salvarsi dalla Serie A però vediamo che cosa succede in queste ultime partite tra l'altro nella 27esima giornata di Serie A per intenderci quella in cui noi andiamo a Milano e vinciamo contro l'Inter l'Ellas ha subito una bella scoppola perché ha perso uno scontro diretto molto importante quello con la Sampdoria per 3 a 1 gol di Faraoni al 43esimo del secondo tempo però significa che stavano già perdendo per 3 a 0 quindi sicuramente per un paio di gol a 0 quindi sicuramente una partita brutta brutta e un risultato ancora più brutto che da una parte deve togliere certezze all'Ellas Verona e dall'altra parte deve suonare la sveglia perché senza perdere anche queste partite qua diventa complicato c'è stato anche l'1 a 1 nei confronti del Monza lo 0 a 0 con lo spesso e altra partita che poteva diventare molto molto importante vista la classifica ha perso per 3 a 0 con la Fiorentina e ha perso per 1 a 0 con la Roma a Roma quindi una partita quella di Roma magari abbastanza in equilibrio che però l'Ellas Verona non è riuscita a strappare alla concorrenza non sono dei gran risultati nelle ultime partite invece la Juventus a parte la sconfitta che ha subito a Roma con gol di Mancini ancora ogni tanto me lo sogno di notte dico come è stato possibile fare quel gol lì siamo abbastanza in serie positiva anche fuori dall'Italia confronto delle squadre la Juventus segna in media 1.67 con la partita l'Ellas non arriva nemmeno al gol a partita e in teoria subisce un gol e mezzo ogni partita contro il 081 della Juve quindi quasi statistiche invertite da questo punto di vista attenzione che la Juve tira per quasi 14 volte a partita l'Ellas però non è da meno perché arriva quasi a 12 poi in porta sono statistiche abbastanza vicine con la Juve 5 l'Ellas 3 quindi attenzione che da questo punto di vista poi magari non riescono a convertire però riescono a creare dei pericoli in qualche modo la Juventus è una squadra che è molto disponibile all'ultimo passaggio cosa che invece l'Ellas non fa la Juventus ha più passaggi riusciti rispetto all'Ellas che quindi sarà una squadra che giocherà molto di rimessa immaginiamoci la Juve non è sicuramente la squadra che ha un dominio territoriale importante l'Ellas lo è ancora meno con un 71% di passaggi contro l'83% della Juventus a maggior ragione sulla tre quarti la Juventus ha questo 71.8% l'Ellas addirittura 58% quindi da questo punto di vista l'Ellas è addirittura molto lontano dagli standard della Juve abbiamo visto comunque in stagione che la Juve non è la squadra migliore del mondo per i passaggi sulla tre quarti ma c'erano squadre anche di magari metà classifica o nelle parti basse della classifica che lì ci arrivavano ecco l'Ellas non sembra una squadra di questo tipo è una squadra che fa molti falli è comunque una squadra che dribbla quindi aspettiamoci una squadra di velocità e tiene un baricentro molto simile rispetto a quello della Juventus e allo stesso modo anche i passaggi chiave sono simili è una squadra che tende ad andare molto in fuorigioco ma è una squadra che tende anche a giocare molti calci d'angolo quindi questa potrà essere una cosa da tenere sott'occhio e attenzione che noi siamo una squadra che va molto sugli esterni per poi andare al cross stessa cosa fanno loro quindi aspettiamoci un Ellas che arriverà a Gagliardo sulle fasce per cercare di arrivare al centro dell'area di rigore guadagnare un corner pochi passaggi magari a due tocchi si arriva dall'altra parte quindi una ripartenza di un certo tipo che si sviluppa sugli esterni per arrivare in area di rigore avversaria e andare a concludere in velocità perché comunque il possesso nella metà campo avversaria è decisamente inferiore rispetto a quello nella propria metà campo sia per la Juve che per l'Ellas quindi da questo punto di vista sono due squadre che tendono ad andare nella stessa direzione per quanto riguarda la disposizione in campo e poi abbiamo qui ci sono tutti i dati relativi al rendimento atletico sono una squadra che comunque sembra correre infatti se guardiamo anche solo una media chilometri rispetto a quelli della Juve siamo lì direi di non soffermarci quindi sicuramente una squadra che ha una condizione atletica di un certo livello e per forza di cose se vuoi fare quel tipo di gioco ce la devi avere la classifica di Serie A è quello che dicevamo prima la Juve, sappiamo bene, sarebbe tra Napoli e Lazio al secondo posto invece l'Ellas è qui in una situazione abbastanza complicata abbastanza difficile e dovrà cercare di fare un vero e proprio miracolo anche perché quel 3-1 della Samp ha complicato i piani quello 0-0 con lo Spezia ha complicato i piani sarà difficile, non impossibile però devono iniziare a guardare davvero ogni squadra come una potenziale rivale per arrivare là per quanto riguarda la classifica delle squadre la Juventus è il terzo miglior attacco l'Ellas è il penultimo così come era la Samp l'ultimo attenzione, ricordiamoci l'ultima volta che una squadra come la Sampdoria che abbiamo detto, avevamo fatto lo stesso video dicendo eh sì però, loro sai, non fanno gol sono venuti, noi eravamo in vantaggio di due gol abbiamo spento la spina perché pensavamo già all'appuntamento successivo in un minuto ci hanno fatto due gol e abbiamo fatto fatica a riprenderla quindi attenzione di non sottovalutare queste squadre qui perché noi ogni tanto dobbiamo rimanerci su quel piedistallo non scendere dal piedistallo perché se la Juve si permette dei cai di tensione sappiamo bene che poi complica tutta la questione e diventa una squadra normale dicevamo prima, tiri in porta occhio, occhio perché l'Ellas Verona è vero che non segna tanto ma tira tanto perché è al 14esimo posto per le squadre che vanno a tirare di più in Serie A è davanti al Monza, è davanti alla Lazio è davanti allo Spezza, alla Salernità, alla Sampdoria, al Lecce è molto simile al Torino e all'Empoli se vogliamo forse anche al Bologna come tipo di squadra quindi sì, è una squadra che comunque fa fatica a segnare ma è una squadra che comunque tira in porta che sia un calcio da fermo, che sia un cross che come ci arrivano non importa ma ci arrivano poi non sono efficaci cerchiamo di non farli diventare efficaci perché anche la Sampdoria non lo era eppure abbiamo visto che per gli assist la Juventus è la seconda miglior squadra Lellas invece al 15esimo posto per i passaggi riusciti Lellas è la squadra peggiore in Serie A quindi aspettiamoci una squadra che faccia molta fatica a tenere il pallone e che vada a sviluppare decisamente il gioco sugli esterni ma anche la Juve non se la cava proprio così bene infatti è all'ottavo posto per passaggi chiave invece dicevamo prima non sono squadre così differenti per i recuperi Lellas Verona è la prima squadra in Serie A quindi aspettiamoci una squadra comunque grintosa dicevamo prima con un buon approccio dal punto di vista fisico quindi una buona preparazione atletica che cercherà di fare fallo cercherà di strappare il pallone e con un passaggio in verticale magari arrivare in porta dove cercherà di concretizzare poi o appunto guadagnarsi un calcio piazzato per quanto riguarda le parate è una squadra che subisce tanto infatti è al quarto posto per parate effettuate in Serie A e però attenzione dicevamo prima attenzione perché loro corrono tanto avevamo visto che erano dati molto simili quelli dei giocatori individuali se mettiamo insieme tutto Juventus e Llas corrono praticamente lo stesso numero di chilometri a partita quindi quando ieri Allegri diceva mettersi al pari loro quasi letteralmente perché comunque dal punto di vista atletico sono una squadra interessante sono una squadra peggiore per quanto riguarda i passaggi sulla tre quarti l'altra volta infatti dicevo la Sampdoria è una squadra che comunque sulla tre quarti ci arriva loro no loro sviluppano per vie esterne quindi a maggior ragione dovremo cercare di contenere i loro esterni con i nostri non so lato formazione cosa succederà ieri Allegri ha detto che Kostic comunque è disponibile significa che comunque attaccarli sui loro esterni diventa un'arma perché loro devono per forza di cose anche cercare di staccarsi un pochettino per arrivare là in fondo le strade sono due o gli attacchi sull'esterno oppure metti un esterno un po' più bloccato e uno un po' più di spinta e cerchi di giocare su una corsia quindi anche a seconda di chi giocherà Quadrado, De Sciglio, Kostic che bene o male saranno questi tre i giocatori indirizzati nella probabile formazione capirai anche che tipo di approccio vorrai dare alla partita per i dribbling ecco Juventus è l'Ellas l'Ellas dribbla più della Juventus è una squadra che fa veramente fatica a dribblare l'Inter è addirittura la peggiore squadra in Serie A da questo punto di vista ma la Juve sicuramente non è fenomenale non è una squadra magica l'Ellas Verona non ha ancora mai avuto un rigore a favore ne ha avuto soltanto uno contro la Juve cinque a favore e due contro quindi vediamo l'Ellas dal punto di vista dei rigori non ha sicuramente gran fortuna e dalla panchina ha segnato un solo gol peggiore squadra in Serie A insieme allo Spezia la Juventus invece ne ha segnati quattro e adesso che iniziamo ad avere una panchina lunga dovrebbe essere anche una sorta di punto forte a nostra disposizione a migliorare quella statistica perché abbiamo visto non siamo sicuramente tra i migliori in Serie A ragazzi questo è una sorta di resoconto generale di quello che dovrebbe essere la partita riassumiamo all'osso è la squadra che fa fatica a segnare ma non fa fatica a tirare squadra che fa fatica a giocare fa fatica ad arrivare sulla tre quarti ma non fa fatica a spingere anzi è una squadra molto verticale molto fisica molto aggressiva che cerca anche il fallo il contatto duro per recuperare il pallone e poi andare e quando arriva là in fondo bisogna stare attenti a marcare al centro dell'area e a non concedere troppi corner perché loro sui corner potrebbero trovare uno dei pochi modi che hanno a disposizione per segnare un gol squadra che fa una fatica bestiale a segnare ma lo faceva anche la Samp e siamo riusciti a fargli fare due gol nel giro un minuto da non sottovalutare perché sono in crisi nera sono praticamente un passo dalla retrocessione in Serie B e per non farlo devono iniziare a raccogliere punti ma la Juve è una squadra decisamente più forte a tratti simile in alcuni punti simile però se il loro punto di forza è appunto questa preparazione atletica questo rendimento di un certo tipo dal punto di vista fisico e la Juve è lì ben o male è lì quindi non è una squadra che fa fatica a correre io penso che sia difficile trovare un modo per non è impossibile quindi occhi aperti da non sottovalutare e non pensare già oggi all'Inter perché l'abbiamo visto anche con la Samp potrebbe essere controproducente di un'intervista Grazie a tutti.